Dottoressa Eva Pollack, cittadina italiana di Monteghetini Terme, presento questa videodenuncia al procuratore della Repubblica di Genova, dottor Francesco Lanna, e al procuratore generale, dottor Luciano Di Noto. I due magistrati sono competenti a ricevere querele a carico di magistrati di Pistoia. Il dottor Emiliano Raganella, sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Pistoia, si è inserito in un sodalo criminale creato tra diversi magistrati di Pistoia per manipolare gli atti fatti di un procedimento penale aperto a carico di un noto giudice tributario per il reato di truffa semplice. Dovevano essere iscritti a registro anche magistrati fallimentari e esecutivo e doveva essere contestato anche l'associazione a delinquere, ma in tal caso il procedimento doveva essere trasmesso a Genova. Le indagini sono state delegate in bianco alla Guardia di Finanza di Montechetini Terme, la quale, oltre di temporeggiare, ha anche fatto il suo. Gli agenti non hanno indagato sul contenuto della querela, ma sui fatti estranei, probabilmente per non dover coinvolgere i magistrati. Dalle indagini si è emerso che il Morini mi ha riciclato degli assegni bancari falsi per una cifra molto importante. Il Raganella ha manipolato gli atti affinché io non ne venissi a sapere perché all'epoca dei fatti era appena iniziato un processo penale a carico del Morini per il reato di truffa e proprio per questi assegni bancari. Quando ho presentato la querela io non sapevo ancora che gli assegni fossero falsi e questo fatto non è emerso neanche dalle indagini perché il magistrato di quel procedimento non ha indagato. Il Raganella per un anno è rimasto inerte. Quando è uscita la sentenza di primo grado, a quel punto ha presentato al GIP richiesta di archiviazione con la motivazione che si trattava solo di un rapporto di mutuo. Di truffa non se ne parlava, ma aveva gli atti d'indagine sulla sua scrivania e ha visto che tutti i assegni erano falsi. Dopo alcuni giorni il Raganella si è pure astenuto dal procedimento con motivazione inverichiera, nonostante che non ce n'era alcun bisogno se ha chiesto l'archiviazione. Poi ha fatto il suo anche il GIP perché mi ha reso disponibile il fascicolo solo dopo quando è scaduto il termine per proporre la proposta di impugnazione alla procura generale di Firenze. Quindi non ho potuto riportare la falsità di questi assegni nella motivazione della mia richiesta. Successivamente ho presentato come nuovi motivi la relazione della Guardia di Finanza, ma sia la Procura Generale di Firenze sia la Corte d'Appello hanno ignorato questo fatto nuovo importantissimo. Il Morini è stato assolto con la formula piena dal reato di truffa, perciò mi sono rimasti in mano di assegni falsi. Non ho potuto arrendermi a così tanta ingiustizia, a così tanta falsità commessa da tutti questi soggetti, perciò ho indirizzato una scrittura a Raganella. Raganella non ha ritardato a denunciarmi, ma stranamente solo per il reato di diffamazione, nonostante che io in questa scrittura ho scritto delle cose pesantissime. La Procura della Repubblica di Pistoia mi ha iscritta a registro per il reato di diffamazione. Poi, in un secondo tempo, il procedimento è stato trasmesso alla Procura della Repubblica di Genova. I magistrati genovesi non hanno voluto indagare sui fatti. Io mi sono presentata tre volte personalmente davanti ai magistrati per poter rendere delle dichiarazioni spontanee, ma non sono stata ricevuta. Il Raganella ha presentato appena cinque righe di querele. In questa querela lui evoca tre messaggi sms che asseritamente le avrei mandato io a lui. E lui anche ha legato questi messaggi. Però, il Raganella non può sapere che io non possiedo il cellulare. Perciò, per questo motivo, io denuncio il Raganella per il reato di calunnia e per tutti gli altri reati che lui ha commesso nel procedimento a monte. Devono essere chiamati in causa anche tutti gli altri magistrati che ho elencato nella querela, e non esclusi quelli genovesi i quali hanno imboscato la mia querela presentata a carico del Raganella per aggiustare quel procedimento a monte. Io insisto che i magistrati vogliano adempiere a loro funzione pubblica, che vogliano trasmettere l'esistenza del procedimento agli organi disciplinari, al Presidente del Consiglio dei Ministri, quale parte offesa principale dei reati, alla Corte dei Conti competente, perché ha competenza anche la Corte dei Conti, perché questi magistrati vengono a meno della loro funzione, danneggiano l'immagine della giustizia e sperperano i fondi pubblici. Perché? Vi faccio vedere l'elenco di tutti i procedimenti aperti a carico di magistrati di Pistoia di Firenze, che non sono stati proceduti dalla Procura della Repubblica di Genova. Tutti i procedimenti sono stati assegnati a magistrati diversi, e nessuno di questi si è degnato nemmeno ad acquisire i fascicoli che stavano a monte delle mie querele, e quantomeno ad indagare. Ogni processo è stato insabbiato o a carico di ignoti magistrati, o nel modello del registro 45, da atti non costituenti reati. Io domando a questi magistrati, che sono pagati con soldi pubblici, quanti soldi sono stati sperperati per gestire questi procedimenti che non costituiscono neanche reato, però dovevano essere registrati tutti questi atti nelle notizie di reato, se la magistratura cenovese non voleva offrire la protezione corporativa ai magistrati di Pistoia. Insisto l'ennesima volta con il procuratore della Repubblica di Genova, dottor Francesco Lalla, e con suo superiore, dottor Luciano Di Noto, che vogliono adempere alla loro funzione pubblica. Se non, devono valutare se lasciare la magistratura, da lasciare il loro posto alle persone che avessero più voglia di lavorare. Dottoressa Eva Pollack, con l'indirizzo email dot.evapollack.virgilio.it Comunque, questa querela sarà presentata anche nelle vie ordinarie.